Buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, mercoledì 12 febbraio 2020. Iniziamo il nostro viaggio subito con le prime pagine delle testate locali. Andiamo sull'edizione pescarese del centro, ecco l'apertura commercio persi oltre mille posti. Pescara e Montesivano chiuse 400 attività in un anno ed è allarme dei sindacati sotto la testata allarme mondiale con oltre mille morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia questo monito, coronavirus minaccia peggiore del terrorismo. E poi ancora tornando in Abruzzo, D'Alfonso ha processo con quattro ex assessori per falso ideologico. Andiamo a centro pagina intanto con la fotonotizia, con le pineta. Gli studenti ricordano i partigiani uccisi, le celebrazioni nella scuola 11 febbraio 1944. Di spalla c'è lo sport con questa svolta proprio di ieri sera. Pescara arriva il rinforzo, ha atteso oggi il sì di Bojinov, l'attaccante bulgaro. Il Pescara corre ai ripari e chiude per Valery Bojinov. Dopo aver incassato il no di Alessandro Matri, la dirigenza ha contattato in extremis l'entourage dell'attaccante bulgaro che oggi è atteso in città. Andiamo poi a vedere i richiami di cronaca. Pescara nomina contestata. Capo dei vigili manca l'ok del Ministero. L'autorizzazione per l'assunzione di Danilo Palestini come capo dei vigili è scaduta. Capo dei vigili urbani è scaduta. Il comune dovrà richiederla di nuovo alla COSFEL, organo del Ministero. Poi ancora a Pescara la polizia, ragazzo pestato in centro, si indaga sui social. Ad Avezzano il caso della A25, sassi lanciati dal cavalcavia, primi sospettati. Poi ancora la cronaca a centropagina. Bambino investito dalla moto è grave, è avvenuto a Montesilvano. Il primo ennesimo incidente in via Vestina finisce in ospedale anche la madre. Poi il buongiorno Abruzzo del centro in volo con il vento nelle ali degli aerei. Il riferimento è al vento di questi giorni che ha spazzato via l'intera Europa. Infatti, questo si è riflesso anche sul traffico aereo, il volo New York-Londra della British Airways ha registrato un nuovo record di percorrenza, atterrando con quasi due ore di anticipo rispetto alla media. Quattro ore e cinquantasei minuti contro le classiche sei ore e quarantacinque minuti. Andiamo avanti e siamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. Ecco l'apertura Fondo Valle, l'autovelox di notte. I vigili potenziano i controlli dopo l'investimento mortale di Torrevecchia. A centropagina, la fotonotizia con lo sport, il Lanciano Calcio ha il suo centro sportivo a Treglio, inaugurato il campo di gioco per le giovanili. E poi ancora di spalla, la sentenza agli insegnanti supplenti, 175 euro di aumento, un aumento appunto di 175 euro per i docenti precari, è quello che otterrà il personale delle supplenze che ha fatto ricorso contro il Ministero. Sei le sentenze sono del giudice di Lanciano. E poi ancora ai richiami di Cronaca, a Chieti parte la caccia ai voti, la sfida è su Facebook. Ok, a Vasto, a Consiglio, sì a Baccalà, centro-sinistra diviso. E poi ancora la Cronaca, condannato il negoziante stalker, a Chieti offese sui muri e botte alla ex moglie, inflitti quattro anni di carcere. Andiamo sulla edizione terramana del centro, ecco l'apertura, il vento semina danni e paura. A Teramo e provincia, tetti, alberi e auto devastati, sfiorata la tragedia. E poi scendiamo a centro pagina, la fotonotizia con il Consiglio Comunale di Teramo, ai consiglieri renziani, contro di noi bullismo politico, il primo consiglio dopo il rimpasto. E poi ancora per lo sport di Spalla, leggiamo, calcio del campionato di eccellenza, il derby di Castellalto assegna oggi la Coppa Italia. Appunto si contendono il trofeo Castelnuovo e Torrese. E poi ancora ai richiami di Cronaca, inverno anomalo, siccità, il Ruzzo è preparato all'emergenza. Un inverno così siccitoso fa aumentare i consumi d'acqua, molto più bassi quando piove, invece aumentano di oltre il 50% se c'è bel tempo a causa di utilizzi impropri, ma il Ruzzo tranquillizza. E poi ancora ad Atri, no alla discarica, il Consorzio fa ricorso al Tar, a Roseto, reddito in 102, lavoreranno per il Comune. E poi ancora, tornando alla Cronaca, badante, raggira l'anziano che assiste a Giulianova, la donna finisce a processo con l'accusa di circonvenzione di incapace. E ora l'edizione aquilana del centro, che apre così processo tangenti, l'accusa bacilla, all'Aquila tace il test chiave Marconne, la difesa esulta, niente prove. E poi ancora la fotonotizia, a centropagina i drammi dei terremoti, un ciac con Lino Guanciale, l'attore a Collelongo per un cortometraggio. E poi ancora di spalla, tutto questo al Gran Sasso Science Institute, le 15 scienziate orgoglio dell'Abruzzo. Scienziate storie a confronto è l'evento organizzato dal Gran Sasso Science Institute in collaborazione con l'Università dell'Aquila e i laboratori del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È un'iniziativa a ONU per celebrare le donne nel mondo della scienza. Andiamo poi sui richiami all'Aquila, piazza d'armi con piste, campi e spogliatoi, nuovi spogliatoi a piazza d'armi con annesse clubhouse e sale polivalenti. Una pista per bici da cross, percorsi vita e ancora un campo da calcetto, uno da street basket e una struttura polifunzionale. Ancora all'Aquila, bagno, il vento smantella il tetto di un map. A Sulmona, bomba d'aereo riemerge tra le fabbriche. Di nuovo la cronaca muore per un malore sulle piste da sci. La vittima è Pascucci, video operatore RAI di Tagliacozzo, era in vacanza in Valle d'Aosta. Andiamo sulla prima pagina del messaggero Abruzzo ed ecco l'apertura ricostruzione verso lo stop. L'Aquila, il sindaco Biondi, altri 4 miliardi o a fine anno si fermeranno i cantieri. Nel complesso il post-sisma verrà a costare circa 24 miliardi, la metà di quello dell'Irpinia. E poi ancora nel box la vicenda del parco Villa delle Rose, la delibera fantasma dell'ex giunta in sette sotto processo, tra cui appunto l'ex governatore Luciano D'Alfonso. Andiamo a vedere sotto la testata, in Val Vibrata Corropoli, non può pagare le bollette, invalida, disperata, si taglia le vene. Il dramma, mamma e figlio falciati in strada da uno scooter, bimbo gravissimo, tutto questo appunto a Montesivano. E poi per lo sport, calcio di serie B, Pescara, messe decisivo, non ci saranno rinforzi. In realtà non è così perché potrebbe arrivare appunto oggi l'attaccante bulgaro Bojinov. La società ha stabilito di non ricorrere al mercato degli svincolati, ma insomma evidentemente la prima pagina era stata già chiusa. Poi vedremo all'interno, anche sul messaggero, si parla dell'arrivo di Bojinov. Invece l'ex pilone va a Cosenza, le grottaglie senza Castanos, infortunato. Andiamo a vedere di spalla, addio Movida. Da ora nascono i locali per pensare, niente musica, smartphone sport, sì ai libri e alle opere d'arte. In taglio medio siamo ancora sulla cronaca appunto delle ultime ore con il vento che ha creato danni e disagi. Il vento flagella alla regione, danni e feriti, clima pazzo, raffiche a 206 km orari sul Gran Sasso. E poi ancora sassi dal cavalcavia. La polizia cerca una gang di ragazzi centrata all'auto degli attori, trovate altre sette pietre, svolta nelle indagini dai filmati di una telecamera. L'arresto tenta la fuga, aveva 10 kg di droga in casa. Tutto questo a Pescale. Poi in taglio basso a Roccaraso, colpita dallo ski lift, ricoverata sciatrice. Andiamo ora sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre così Fondazione Tercas accanto ai più deboli. Il presidente Gianfranco Mancini presenta il progetto per combattere l'usura e sostenere le famiglie. E poi sotto la testata a Nereto, la valvibrata esulta per lo stop al depuratore. Andiamo in taglio medio con la fotonotizia. Vento e devastazione, circa 100 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Teramo. E poi di spalla sempre a Teramo Città. In questo caso in consiglio va in scena il gioco della sedia. Giulianova, battesimo al porto per le case galleggianti. E poi ancora la rubrica della città, sostenibilità, parola chiave per il futuro. In taglio basso, Valle Castellana, la campagna referendaria entra nel vivo. E poi Valentina Muzzi e una teramana a Palazzo Chigi per i restauri d'arte nell'abitazione del Premier. Lasciamo i quotidiani locali per ora. Andiamo su quelli nazionali, facciamo il nostro excursus e apriamo la parentesi dedicata appunto alle prime pagine delle principali testate nazionali. Corriere della Sera, virus, 18 mesi per il vaccino. L'OMS, peggio del terrorismo. Il mondo si svegli, superati i mille morti. I medici, migliora la coppia cinese allo Spallanzani. Domani il rientro del giovane italiano a Wuhan. Poi ancora sotto la testata per lo sport, svelata la SF1000, la nuova Ferrari è ancora più rossa. Torniamo alla cronaca con la compagnia in liquidazione. Air Italy chiude, stoppa i voli, i posti a rischio sono 1500. E poi la fotonotizia dedicata alla vicenda. Zaki, Patrick, sequestrato e picchiato per farlo parlare di Regeni, Di Maio in campo per Zaki. E questo è il murales che è apparso ieri proprio dalle parti dell'ambasciata a Roma. Andiamo ora a vedere di spalla. La giustizia, prescrizione Italia Viva, vota con l'opposizione, rinvio dopo lo scontro, verso un disegno di legge. Le reazioni sono appunto nelle parole del segretario Dem Zingaretti. Renzi punta a logorare il governo. Andiamo sulla prima pagina di Repubblica. L'apertura, Zaki, torturato per sapere dei Regeni a casa dello studente egiziano, arrestato al Cairo. Il padre dice, Patrick, sta bene, tiene duro, vuole solo tornare a studiare. L'avvocato, aggiunge, picchiato e interrogato per 30 ore, volevano conoscere i suoi legami con l'Italia e con la famiglia di Giulio Di Maio. Verità dall'Egitto, ma l'ambasciatore resta. Ed ecco, anche in questo caso, nella prima pagina di Repubblica, ritroviamo il murales vicino all'ambasciata d'Egitto a Roma. Di spalla, vediamo Mattarella, aiutiamo le famiglie, rapporto Istat, mai così pochi nati. La ministra Bonetti, del 2021, assegno unico per i figli e via tasse scolastiche. Andiamo poi in taglio medio, con il monito lanciato dall'OMS. Virus minaccia peggiore del terrorismo. Il primo vaccino potrebbe essere pronto in 18 mesi. Ultimo bilancio in Cina, superati i mille morti. In taglio basso, Parasite dimostra che l'America non ci basta, il film premio Oscar. Poi ancora per lo sport, sempre in taglio basso, nuova Ferrari, Formula 2020, fettele ancora più rossa. Si chiama SF1000 in omaggio ai mille gran premi della scuderia. presentata la macchina per il mondiale, la presentazione a Reggio Emilia. Andiamo ora sulla prima pagina del messaggero. Ecco qui l'apertura, giustizia, stop, riforme di parte. L'intervista a Ermini del CSM, soluzioni condivise quando si toccano diritti costituzionali. Prescrizione, il governo frena ma Italia Viva vota con il centro-destra. Scontro, Renzi-Zingaretti. Lo sport sotto la testata per il calcio, Corsa 3, Inzaghi Conte, Sarri, i segreti degli innovatori del calcio italiano. E poi la presentazione Ferrari più rossa per Fettel Leclerc, la SF1000. Andiamo in taglio medio, intanto con la fotonotizia. Virus accuse alla Cina, dati falsati. L'OMS vaccino pronto in 18 mesi, più pericoloso del terrorismo, preoccupa il contagio in Africa. E poi ancora IRPEF, i tagli a rate, detrazioni nel mirino, caccia 15 miliardi sul tavolo del MEF per abbassare le aliquote e anche nuove misure per la lotta all'evasione. E poi il festival che si è appena chiuso, il festival di Sanremo, definito anche festival degli sprechi. RAI, la Corte dei Conti, indaga sugli imbucati. Andiamo poi in taglio basso e Ritalin liquidazione, non vola più a terra 35 mila passeggeri, lira dell'esecutivo. E poi il boss delle slot a Roma Nord, arrestato Nicitra dalla Magliana all'impero del gioco. Andiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Renzi è posseduto da Salvini, vota con Lega e Forza Italia, crisi vicina. Prescrizione, il lodo Conte Bis esce dal mille proroghe, diventa un disegno di legge. Ma Italia Viva si schiera con le destre. E poi sotto la testata Bologna, Gelli mandante con l'uomo del Viminale. La svolta nelle indagini sulla strage del 1980, la Procura Generale chiede il processo per chi ideò e commissionò la strage. Oltre al capo P2, Ortolani, Umberto D'Amato e Tedeschi, tutti deceduti. E vivo invece Paolo Bellini, ex avanguardia nazionale. Avanti con la prima pagina del manifesto che apre con fuori board. Questa immagine del leader della Lega Salvini, Gregoretti. Ultimo atto, oggi il Senato decide se autorizzare o meno il processo a Matteo Salvini per il mancato sbarco dei migranti dalla nave della Guardia Costiera. Salvo sorprese sarà via libera. Lui insiste, ho difeso i confini italiani. I leghisti non parteciperanno al voto. Poi andiamo sotto la testata Istat. Solo 67 su 100 decessi nascite al minimo storico in Italia. E poi l'intervista a Chiara Saraceno. Troppa paura per fare figli. Le parole appunto della sociologa e filosofa Chiara Saraceno. Andiamo sulla prima pagina del tempo. Operazione Jackpot presa. La banda rovina. Romani maxi retata contro il gioco d'azzardo. Facevano milioni con le slot machine della capitale. Comandava ancora tutti dal carcere. Salvatore Nicitra, l'ingegnere della banda della Magliana. Il tempo di Oscio al centro pagina. Il Senato oggi vota su Salvini Gregoretti. Ognuno sceglierà solo per partito preso. Poi c'è questa immagine con Di Maio e Conte. Tu sei proprio sicuro che non c'entriamo niente con questa Gregoretti. Dovrebbe essere così. Io penale lo faccio poco. E poi ancora in taglio basso. Virus termoscanner nelle stazioni. L'Italia è pronta a estendere i controlli su eventuali persone contagiate dal coronavirus. Anche nelle stazioni ferroviarie. Ora la prima pagina della stampa. Che apre con le parole del leader di Fratelli d'Italia Meloni. Salvini ci fa la guerra. Il leader delle Sardine, Santori, incontra il ministro Provenzano. Sul taglio degli eletti il Movimento 5 Stelle sbaglia. In Emilia Schlein, nominata vicepresidente, dobbiamo colmare distanza tra città e campagna. A fondo di Fratelli d'Italia contro la Lega, trego armata nel governo sulla prescrizione. Poi il rapporto Istat sulla demografia. Nel 2019 il record negativo di nascite. Derita siamo un paese impaurito. E poi la fotonotizia con la cronaca. Il vento a 200 chilometri sconvolge il nord. Danni e blackout. In balia del cambiamento climatico. Andiamo sulla prima pagina della verità. Ecco l'apertura. Il Senato decide sul caso Gregoretti. Salvini nelle mani dei giudici. La maggioranza al solito tenta di far fuori il nemico attraverso i magistrati. Ma è la fiera dell'ipocrisia. Lo spediscono a processo per sequestro di persona. Conte che condivise le sue scelte. I 5 Stelle che sulla 18 dissero no. E il presunto garantista Renzi. Due pesi e due misure. Panorama fa la radiografia delle indagini sulle ONG. Finite in nulla. Vediamo la fotonotizia. Centropagina. Lerner supera se stesso. Lo speculatore Solos agisce per il nostro bene. E poi ancora. Taglio medio. Mai così pochi figli. Ed è colpa delle élite. In Italia prevalgono le spinte contro la famiglia. I rapporti eterosessuali. Come dimostra anche Sanremo. Il risultato è che generare bambini ormai è considerato retrogrado. E noi ci avviamo verso l'estinzione. Chiudiamo con l'Avvenire. Il rapporto dell'Istat apre anche la prima pagina dell'Avvenire. Sempre meno figli. L'Italia più debole. Richiamo di Mattarella sulla denatalità. Mentre l'Istat certifica ai minimi dal 1918. L'anno scorso soltanto 67 nascite. Ogni 100 decessi. E migrate all'estero 120.000 persone. E poi ancora la fotonotizia. Coronavirus ora per l'OMS. E peggio del terrorismo. Oltre mille le vittime. L'agente infettivo denominato Covid-19. Poi il caso Air Italy. Stop ai voli. La 1.200 posti a rischio. La compagnia in liquidazione. Troppe le perdite operative. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo su quelli locali. Ripartiamo dal centro. Con l'evento al Gran Sasso Science Institute dell'Avvenire. L'Aquila. Ecco qui le 15 scienziate. Orgoglio della regione. Bracchesi tra le prime dieci al mondo. Votano e le altre storie di donne di successo. Che guadagnano meno degli uomini. E qui vediamo questa foto di gruppo. Con le 15 scienziate. Poi ancora in taglio basso. Domani Anna Ascani in Abruzzo. All'Aquila. Teramoè Pescara. Il vice ministro PD dell'istruzione. E poi ancora sindacati. L'Iris. Lo scontro cresce. Secca. Replica all'assessore. Sul caso dei bandi. Per scegliere i dirigenti regionali. Avanti ancora con pagina 5. I piani della maggioranza. Case popolari. La regione ritocca la legge. Pronta una norma omnibus. Per disinnescare la bocciatura del governo. E abbattere anche il ferro di cavallo. A Pescara. Poi ancora. Di spalla. La delibera. L'avvocato cantore. Presidente dell'ASP di Teramo. È stata indicata. da Fioretti della Lega. E poi ancora. Un taglio medio. Abbonamenti bus. Sconto del 10%. Esteso fino a giugno. Il provvedimento del 2018. Per ben 129 comuni. Novità per studenti pendolari. In taglio basso. Caso. Gatti. Lega. E Fli. Vanno verso l'accordo. La decisione tanto discussa. Sarà votata in aula martedì prossimo. Ma tira già aria di rinvio. E ora pagina Abruzzo. Con questa vicenda processuale. Che è ad una ulteriore svolta. Lavori all'ex ipodromo di Lanciano. Delibera sul parco. Sette rinvii a giudizio. L'accusa. Dichiarata falsamente. La presenza in giunta di D'Alfonso. Processo per l'ex presidente. E per Paolucci. Pepe. Sclocco. E di Matteo. Gli altri imputati. Oltre ai quattro ex assessori. Ci sono anche l'ex segretario Ruffini. Fabrizio Bernardini. Prima udienza a giugno. Poi ancora. La regione che va e che non va. Quella che non va. Pescara. Tanti rifiuti e topi nella sede di via Raffaello. E poi la regione che va. Nuova sala per le commissioni. All'Aquila. Ha 25 posti per i politici. Luci al LED. Ed è super moderna. Andiamo avanti. Iniziamo con le pagine della cronaca di Pescara. L'argomento in questo caso, come leggiamo, è il commercio in crisi. In particolare a Pescara e a Montesilvano. Chiuse 400 attività in un anno. 1100 lavoratori mandati a casa. I dati della Camera di Commercio del 2019. Anno nero per supermercati, librerie, edicole, bar e ambulanti. L'allarme di Confesercenti e Filcams. Le cause. Fisco. Online. Main e caro affitti. Main 217 ripartono. E poi ancora Tauci di Confesercenti. Aggiunge la ripresa non è facile. Si spende poco. L'incertezza del futuro spinge l'utenza a mettere i soldi da parte. Poi Cipollini della Filcams CGL. Tante richieste di disoccupazione più volte l'anno. Troppi contratti a tempo determinato. Poi in basso, sempre sul fronte lavoro. E c'è chi lascia il negozio agli ex dipendenti. Stefano Mazzocca è un esempio. Dopo 24 anni ho chiuso il girasole, ma lo riapriranno i ragazzi che erano con me. Avanti ancora. Capo dei vigili. Stop alla nomina. Manca il via libera del Ministero. Scaduta a fine anno l'autorizzazione per assumere come comandante Palestini. Va richiesta di nuovo. Intanto gli uffici dell'ente preparano la difesa contro la denuncia in procura di un candidato escluso. Andiamo poi in taglio medio. Oggi i funerali. Addio a Giannini, il vigile urbano che ha fatto grande il pattinaggio. Proseguiamo. Ancora la cronaca. Ragazzino picchiato in centro. Caccia i responsabili sui social. Il pestaggio è avvenuto in Corso Umberto. La madre del 13enne. Il caso di mio figlio non è isolato. C'è un gruppo di delinquenti a piede libero. La polizia sta analizzando i profili Instagram da cui sarebbero partite le minacce dopo l'aggressione. Poi ancora un nuovo piano per Viale Marconi. Spunto una nuova proposta alternativa al progetto. Rinviato il vertice di maggioranza. La città e le sue origini la mostra. C'è anche l'antica Pescara nel primo stradario romano. In esposizione al Museo delle Genti la riproduzione della mappa di 16 secoli fa. La direttrice Lizza è un pezzo pregiato di una collezione di assoluto prestigio. E poi ancora nuovi iscritti nel 1400 a scuola per un mestiere. Gli istituti professionali cittadini tengono in controtendenza al dato nazionale. Record al Volta. La Presidente Lentigno. Il traino arriva all'indirizzo in chimica, materiali e biotecnologie. Proseguiamo. Con le pineta i bimbi della scuola ricordano i partigiani uccisi nel cortile della primaria 11 febbraio del 44. Dove avvenne l'ecidio, anche i familiari delle vittime e presto un parco della memoria. In questi scatti della pagina appunto sono ritratti alcuni dei momenti della cerimonia commemorativa. Avanti ora con le pagine di Montesilbano. Eventi estivi, un festival musicale sulla spiaggia del Jova Beach Party. Dal 12 al 14 giugno la Giunta ha dato l'ok a Movida Events. Ma i nomi degli artisti internazionali sono ancora top secret. E poi di spalla presto ci sarà l'incontro. L'assessore dice sì ai commercianti. Avanti ancora sempre a Montesilbano. Montesilbano, questo fatto di cronaca ieri nel tardo pomeriggio. Investiti, madre e figlio. Grave il bambino. Un incidente in via Vestina. Il piccolo di 6 anni è in rianimazione. È stato travolto con la mamma da uno scooter condotto da un 17enne di Francavilla. E poi ancora in zona Vestina, danni per il vento. Pianella chiude la scuola, attività sospese solo per ieri. E tra Castellana e Cerratina un albero abbatte il palo della media tensione. E qui siamo a Francavilla con l'opera attesa da anni. Nuovo canile, via libera ai lavori. Il comune pronto per l'estate. Parte la realizzazione della nuova residenza per gli animali. Ora ospitati in alcuni comuni limitrofi. La struttura sorgerà lungo la strada che porta a Castelvecchio. La spesa prevista è di 450 mila euro. Le parole di Marinelli. Il mio ringraziamento va ai volontari della Lega del Cane che hanno accudito gli amici a quattro zampe dopo l'alluvione che distrusse il rifugio di Valle Anzuca. Le parole dell'assessore comunale all'ambiente Marinelli. Andiamo avanti e siamo di nuovo nel Pescarese a Pietranico dove è stato scovato un laboratorio illegale. Fugge all'alte dei carabinieri scoperti 10 chili di marijuana. Trentenne di Pietranico finisce ai domiciliari. La droga era nascosta in un casolare di campagna. Trovata anche una serra dove coltivava e confezionava lo stupefacente. Sequestrate 22 piante. Andiamo avanti e siamo ora sulle pagine di Chieti. La sentenza offese sui muri all'ex moglie. Il negoziante è condannato a quattro anni. L'uomo di 59 anni è accusato di atti persecutori e lesioni. La donna presa a pugni in faccia è minacciata. Ti metto dentro una barra. La terrorizzava. Ora dovrà anche risarcire la vittima con 20 mila euro. Avanti ancora in taglio basso. Fondo Valle a lento. Autovelox anche di notte dopo l'investimento mortale di Torrevecchia. Controlli potenziati. Oggi l'autopsia sull'anziano travolto. Poi ancora sentenza pilota a Lanciano. Ai docenti precari 175 euro di aumento. Insegnanti con supplenze saltuarie per il giudice del lavoro hanno diritto alla retribuzione che il ministro negava. L'avvocato Orecchioni aggiunge un passo in avanti per superare la disparità di trattamento tra chi è assunto a tempo indeterminato e chi no. E poi ancora Santa Maria in Baro. Ceca ha diritto al tutor anche all'università. Il Tarre riconosce alla studentessa il diritto all'assistenza educativa a casa. Pagine di Teramo con le conseguenze di questo inverno molto caldo e anche piuttosto povero di piogge. La siccità fa impegnare i consumi. Il ruzzo non ci sarà emergenza. Il direttore Stirpe la mancanza di precipitazioni non influisce sulla portata delle sorgenti. Con il bel tempo si usa il 50% di acqua in più ma con attente manovre la rete resta in equilibrio. E poi ancora in taglio basso con i tagli quasi tre ore per arrivare a Roma. Colledara i disagi dei pendolari dopo la riduzione delle corse della tua e i cambi obbligatori all'Aquila. Proseguiamo. Siamo ad Atri. No alla discarica. Il consorzio fa ricorso. Atri il piombafino va al Tarre contro il rigetto dell'ampliamento. Quei 360 mila metri cubi stanno nel piano regionale. Le parole del commissario D'Alessandro. I rifiuti del comprensorio vanno smaltiti da qualche parte. Senza il nuovo invaso andranno fuori regione e i costi si impenneranno. E ora andiamo sulle pagine dell'Aquila. Mazzette e appalti nella inchiesta d'Otdes. Ieri appunto l'udienza, processo tangenti, l'accusa vacilla, il grande accusatore. Non parlo. L'imprenditore Marcon si avvale della facoltà di non rispondere. Riga, ora rinuncio alla prescrizione. Gli avvocati, finora non c'è stata una sola testimonianza che confermi le gravi accuse contestate. La prossima udienza si terrà il 3 marzo e potrebbe essere pronunciata la sentenza a 10 anni dai fatti. Poi ancora lancio di sassi. Ci sono i primi sospettati. Ad Avezzano l'auto degli attori, forse bersagliata da una banda di adolescenti. Si cercano testimoni, le potenziali vittime sono stati gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti, che se ne sono vista brutta. Poi ancora a Tagliacozzo, Tagliacozzo in lutto, muore per un malore sulle piste da sci. La vittima, Pascucci, videooperatore Rai, era in vacanza in Valle d'Aosta, autore di tanti documentari sul suo paese d'origine. Aveva 69 anni. Ci fermiamo con la prima parte di Mattino 6. Diamo lo spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi rientriamo con le pagine del messaggero, la città, lo sport e vedremo anche alcuni servizi. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 con il messaggero Abruzzo. Ecco qui, argomento, la rinascita è difficile, allarme ricostruzione, mancano 4 miliardi. L'Aquila, il dossier di Biondi a Mattarella, senza finanziamenti lo stoppa ai cantieri. A rischio anche le attività di ricerca di università, Gran Sasso Science Institute e laboratori di fisica nucleare. Nel complesso, il post-sisma verrà a costare 24 miliardi, la metà di quello dell'Irpinia. Poi ancora, in taglio basso, cicloturismo e riti della settimana santa. I progetti dell'Abruzzo spopolano alla BIT. La regione punta sul circuito Bike Friendly e sulle identità. Febbo, ottimo riscontro. Andiamo avanti, siamo sulle pagine di Pescara. Villa delle Rose in 7 a processo. L'ex governatore D'Alfonso e gli ex assessori di Matteo, Pepe, Sclocco e Paolucci. Poi Ruffini e Bernardini, le figure coinvolte. Devono rispondere di falso ideologico in concorso per i lavori di riqualificazione del parco di Lanciano. Il Gup Sarandrea ha accolto le istanze del PM di Giovanni. Gli imputati dovranno comparire in aula il prossimo 8 giugno. Poi ancora avrebbero approvato la delibera di indirizzo, certificando la presenza del Presidente, che invece era altrove accolta l'eccezione per la inutilizzabilità dell'intercettazione della telefonata in cui si prendevano i presunti accordi. Poi ancora in taglio basso, discarica nell'ex palazzo della Regione. Ecco qui, ben visibile in questa foto, l'ex palazzo trasformato in discarica. Poi ancora auto a fuoco, salva una donna, incendi a causa del forte vento. Andiamo avanti con il fatto di cronaca che si è verificato ieri a Montesilvano. Mamma e bimbo travolti sulla vestina. Un giovane in scooter, anche lì è rimasto ferito, è sotto shock. Gli ha investiti dopo aver superato una colonna di auto in coda. Trauma cranico per il piccolo di sei anni. Le sue condizioni sono gravissime. La donna ha riportato frattura alle gambe. Intervenuti i soccorsi del 118, i vigili urbani al comando di Nicolino Casale. Per i rilievi in taglio medio a Pietranico, inseguito e arrestato, aveva in casa 10 kg di marioana. Nei guai un trentenne di Pietranico al posto di blocco dei carabiniere ha tentato la fuga, ma è stato preso alla perquisizione. I militari del capitano De Rosa gli hanno trovato una serra con piante di cannabis. Poi ancora, taglio basso, svincolo di bussi. Autostrada dei parchi chiede la gestione temporanea dell'area. Avanti ancora, nella grossi 80 anni da super tifosa. La fondatrice e presidente del club Donne Bianca Azzurre si racconta nel giorno del compleanno tra amori e passioni il viaggio di nozze con il marito Achille a San Siro, dove tutto cominciò, il legame con Sarri, Gasperini e Galeone. Avanti ancora, Mazzocchetti consegna i 3.500 euro per l'Unitalsi, il Pescara e il Milan. No, questo box è legato sempre a Nella Grossi. Pescara e Milan, squadra del cuore, i complimenti di Berlusconi e le interviste alla TV spagnola. Poi, riferimento alla consegna dei 3.500 euro per l'Unitalsi da parte del tenore Piero Mazzocchetti, il tenore appunto ha versato quanto raccolto al concerto del 26 gennaio per l'apertura di Casa Celeste. In taglio basso, l'arminuta al Circus Guidone, il teatro dei miei sogni. Lucrezia, domani in scena con l'opera tratta dal libro di Donatella di Pietrantonio, premio Campiello 2017. Avanti ancora, con le pagine dell'Aquila, ecco qui Piazza Darmi, entro fine anno pronti nuovi impianti sportivi. Piano da 2,3 milioni per completare le strutture, per alcune i lavori sono già in corso di esecuzione. Per il rugby ci saranno Spogliatoi e Clubhouse, la palestra del basket sarà anche centro culturale. Il sindaco Biondi, stiamo risolvendo anche i problemi dei due stadi cittadini da parte nostra. Grande attenzione. E poi ancora, animali non in regola, scatterà il sequestro. Ordinanza per contrastare la mafia dei Pascoli, giacento eventi criminosi. In taglio basso, tangenti, riga, nega tutto e rinuncia alla prescrizione. L'ex vice sindaco in particolare ha smentito l'episodio della confezione di grappa con dentro 10 mila euro. Avanti ancora, vento record sul Gran Sasso, 206 chilometri orari. Le raffiche hanno provocato disagi su tutto il territorio. In città, problemi ai tetti del MAP, saltate alcune coperture. Vigili del fuoco in azione in molte zone del comprensorio. Sono state rimosse parti pericolanti che erano a rischio crollo. Si riaccende il dibattito sulle strutture provvisorie realizzate dopo il terremoto. E poi, roio in festa per i 50 anni del parroco. Il venezuelano Don Osman Prada, commosso, voi siete la mia famiglia. Andiamo avanti, siamo in Marsica. Sassi, caccia alla banda di minori terribili. La polizia stradale era stata già allertata per alcuni episodi simili. accaduti nel recente passato su quel cavalcavia. Intanto i due noti attori, la cui auto è stata centrata da un masso, minimizzano. Ma la paura resta, c'erano altre pietre sull'asfalto. Andiamo avanti, siamo sulle pagine di Chieti. Con la cronaca stalking, noto negoziante condannato a quattro anni. L'uomo deve anche risarcirle i danni negli sms offese, pesanti e minacce. Rientra ubriaco e picchia la convivente davanti ai figli piccoli. Patteggia 18 mesi. Processi per una serie di violenze sopprusi tra le mura domestiche. E poi ancora di spalla nella sede allo Scalo. Servizi a singhiozzo senza personale per il comune. Avanti ancora, siamo a Lanciano. Weekend di musica e grandi eventi. La città sta rinnovando la propria offerta culturale per portare turisti dopo il calo estivo del 30%. Sempre al top il miracolo eucaristico. Ma si cerca di attrarre anche visitatori con iniziative artistiche, sportive e congressi. Apertura mensile della Casa Museo Spoltore. E sfruttare al meglio l'auditorium di Ocleziano. Andiamo avanti. Siamo sulle pagine di Teramo. Il vento flagella la provincia. Casa brucia una donna. E' grave nel tentativo di sfuggire alle fiamme. Precipitate in una scarpata di tre metri. Abbattuti alberi, piante, cartelloni e perfino la croce sulla chiesa di Silvi. I vigili del fuoco costretti a un superlavoro richiamati anche quelli che erano fuori servizio. E allora sui danni fatti dal vento, soprattutto nel Teramo, vediamo il servizio. Situazione critica ma sotto controllo in provincia di Teramo, dove un vento fortissimo soffia da questa notte creando disagi notevoli. Fino ad ora sono stati più di 20 gli interventi dei vigili del fuoco di Teramo. Iniziamo dalla montagna. Un albero maestoso è caduto nei pressi del bivio di Trignano, bloccando la strada per Isola del Gran Sasso. Mentre al rifugio Franchetti il vento avrebbe raggiunto i 206 chilometri orari. Molte le chiamate di soccorso da Colledara, Torricella Sicura, Valle Castellana e Montorio. Ad Atri un pino si è abbattuto su due macchine parcheggiate nel piazzare sottostante. Nel centro storico di Teramo il pericolo è inagguato dovunque. Volano tegole e coppi dai tenti. Molti cantieri hanno perso le coperture telate, mentre sui percorsi del lungo fiume molti grossi rami ostruiscono il passaggio. Anche nelle centrali via Cesare Battisti e via Maestri del Lavoro il traffico è rimasto bloccato per la caduta di alberi. Ai cittadini terramani si raccomanda grande attenzione nel passeggiare in città durante queste condizioni meteorologiche per via di possibili distacchi di cornicioni e caduta calcinacci. Volano anche le insegne pubblicitarie e le strutture dei dehors dei bar sembrano molto precarie. Qualche difficoltà è stata registrata anche sulla Teramo Mare e sui tratti autostradali dell'A24, soprattutto per i camion con copertura telonata. Il vento non si placherà nemmeno per domani. Soffieranno infatti forti venti occidentali con raffiche localmente tempestose nel versante adriatico dell'Appennino. Le temperature sfioreranno i 20 gradi e per i vigili del fuoco di Teramo saranno altre 24 ore di lavoro intenso. Poi ancora di spalla leggiamo debutta la nuova giunta a Teramo ovviamente ed è subito polemica con Italia Viva. Pagina successiva siamo a Giulianova ex SAIG blitz dei carabinieri in comune al centro della visita. La documentazione relativa all'opera di caratterizzazione della zona che va liberata dalle ceneri. Quattro persone andranno a processo nei prossimi giorni. Fraticelli volevamo bonificare ma c'erano pitbull e cavalli. E poi ancora in taglio medio invalida non riesce a pagare le bollette e tenta il suicidio a Corropoli. Orietta si taglia le vene davanti al municipio. Il sindaco Vallese supereremo questo problema. E poi ancora a Giulianova badante si appropria dei beni di un anziano, una 48enne balcani che era inserita nello stato di famiglia. Aveva fatto le pulizie. Torniamo più tardi con lo sport sul messaggero. Ora cambiamo testata, siamo sulla città. Ancora riprendiamo dal maltempo condizionato appunto dal vento a Teramo città e anche in provincia. Vento forte, devastazione in tutta la provincia, danni ingenti per le raffiche che hanno superato anche i 100 km orari. Castelli chiede lo stato di calamità. Il tetto di una casa è volato via come un foglio di carta andando a finire in una piazzetta. Tutto questo sempre a Castelli. Tragedia sfiorata in via Sant'Antonio a Teramo. Una parte della copertura del palazzo che ospita la farmacia Lucangeli è stata strappata via dal vento ed è precipitata in strada. Qui insomma vediamo le foto che riportano alcuni dei danni e dei disagi causati dalle raffiche di vento. Andiamo su pagina 7. Fondazione Tercas in prima linea a sostegno dei più deboli. Il presidente Mancini presenta il progetto per creare una fondazione che combatta il fenomeno dell'usura. Il presidente aggiunge che molte persone vivono grandi difficoltà nell'accesso al credito bancario. Credo che questa iniziativa sarà di valido supporto per le famiglie e per l'intera provincia di Teramo. Andiamo avanti. Consiglio va in scena il gioco della sedia. Caos durante il question time di ieri tra nuovi ingressi e riposizionamenti dopo il rimpasto di Giunta. C'è il primo duro attacco in assise da Italia Viva. Flavio Bartolini presenta un documento che parla di caccia alle streghe nei confronti del suo gruppo. E poi si parla anche di appoggio flessibile. Nella nota di Italia Viva arriva la conferma di un appoggio flessibile diventato oramai una certezza. Pagina 10. Nella sanità ancora tanti dubbi da sciogliere. I vertici nazionali della NAO a Teramo per spiegare ai medici il nuovo contratto della dirigenza medica. E poi ancora in taglio basso le parole di Mattarella utili per promuovere la parità di genere. La consigliera di parità torna a sollecitare le istituzioni sui Cug partendo dalla visita del presidente. Sviluppo e territorio. Sostenibilità è la parola chiave per il futuro. L'ingegnere Ercole Cauti spiega la programmazione europea incentrata su ambiente, economia e sociale. E poi ancora la rubrica Vivere Abrex PR5. Abrex un'autostrada verso nuovi clienti. L'azienda con sede a Montesivano è specializzata in comunicazione outdoor tramite l'impiego di impianti pubblicitari di proprietà. Andiamo avanti e siamo in provincia di Teramo. Chissà ancora per quando mi verrebbe da aggiungere con il comune di Valle Castellana dove appunto la campagna referendaria entra nel vivo. Stilato il calendario degli incontri con la popolazione per il quesito sul passaggio nelle Marche. La consultazione popolare avrà luogo domenica 8 marzo, festa della donna, dalle ore 7 alle ore 23. Andiamo avanti. Siamo in Val Vibrata. Incidente al cimitero di Torano Nuovo. La minoranza attacca l'amministrazione. È presentata un'interpellanza al sindaco per la tragedia sfiorata domenica. Un volontario è caduto da circa 6 metri mentre svolgeva lavori di manutenzione. Poi ancora sempre in Val Vibrata stop al depuratore. Il sindaco Laurenzi ha vinto il territorio. La bocciatura del progetto WASH da parte della regione soddisfa tutti. Pepe l'unità paga gli ambientalisti. Ora si risani il Vibrata. Tutto questo nel comune di Nereto. Nereto grazie agli uffici comunali, alla regione e ai comitati sulla vittoria non vanno messe bandiere politiche. Poi il lavoro messo in campo in questi mesi è stato lungo e faticoso ma finalmente ora siamo soddisfatti, dicono i comitati. E poi ancora la città di Tortoreto punta sul cicloturismo. Il comune va avanti con il piano di sviluppo in attesa della tappa del giro del prossimo 19 maggio. Poi ancora a Giulianova Porto, battesimo per le case galleggianti calate in mare ieri mattina. Le prime unità abitative con vista sull'acqua. Eccone un esempio. Il Porto negli ultimi tempi sta assumendo un appeal nuovo grazie a installazioni e nuovi progetti. Poi ancora a Roseto via ai programmi del reddito di cittadinanza. Anche a Roseto i beneficiari dovranno dare la disponibilità per le attività lavorative gestite dal comune. E poi ancora Charter Night, siamo sempre a Roseto. Charter Night con l'ingresso di nuovi soci. Il governatore del distretto 108A Dragani, ospite del Lions Club Roseto degli Abruzzi e Valle del Vomano. E poi ancora, sempre a Roseto, l'opposizione chiede maggiore sicurezza, mozione per istituire una commissione consigliare, installare telecamere, rafforzare controlli. Pavone, Marconi e Recchiuti sperano che la mozione venga discussa. Il primo consiglio utile. E poi ancora, siamo alla pagina della cultura, una terramana a Palazzo Chigi. Eccola qui, si tratta della restauratrice Valentina Muzzi, la restauratrice d'opera d'arte Valentina Muzzi, al lavoro nell'abitazione del Premier Conte. Andiamo ora ad aprire la parentesi dello sport, ecco qui sulla città, si parla chiaramente di Serie C, Teramo Monopoli. Non vincerà la noia a Pugliesi con il rendimento esterno da primato, nella tana del diavolo che al Bonolis non sbaglia mai. Cancellare la gara d'andata sarà uno degli obiettivi del Teramo, la gara del veneziani di fine settembre fu il punto più basso della stagione bianco-rossa. Diavolo che dovrebbe riproporre Ilari dal primo minuto al posto di Mungo, deludente a Viterbo. Andiamo a vedere le tre testate nazionali sportive, prima di chiudere con Centro e Messaggero, con le loro pagine di sport. Qui siamo sulla gazzetta dello sport, spazio chiaramente alla presentazione della Ferrari, della nuova Ferrari La Rossa va a mille. Presentazione in grande stile al teatro di Reggio Emilia, la nuova Ferrari dedicata al millesimo GP. Ha un colore più intenso rispetto al 2019, Binotto, Leclerc e Vettel liberi di correre. E poi a centro pagina Milan sfida al Max, la panchina del futuro e scontro in società. Boban e Maldini spingono per Allegri, Gazidis punta sul tedesco Rangnick. E poi questi due richiami, SOS Sarri, Cene Anticrisi in casa Juve, Summit con Buffone e Chiellini. Poi Agnelli vede il tecnico e da quest'altra parte c'è Fame Inter, Conte all'assalto del trofeo Tabù contro il Napoli. Torna Lautaro, questa sera la semifinale di andata al Meazza. Andiamo sulla prima del Corriere dello Sport. In primo piano c'è Lautaro Martinez, l'attaccante dell'Inter, che punta la Juve. Prima semifinale, l'Inter sfida Napoli e Gattuso per andare avanti. E poi ancora sotto la testata, ecco la Ferrari anti Hamilton, svelata la nuova SF1000, che debutterà il 15 marzo in Australia. E poi questa intervista a Sebino Nela, ho visto in faccia la morte. Intervista sciocca all'icona romanista, il tumore che non ti lascia mai, le amicizie finite, i tanti pianti per la Roma. Di Bartolomei, Falcao, Lidon e Fonseca, Sebino, io un guerriero ipersensibile, non ho rimpianti, potrei morire anche domani, ho un solo desiderio. Poi ancora in basso, Agnelli pronto a tutto per Guardiola, voci dall'Inghilterra. Poi Lippi e Prandelli, sia la certificazione VAR richiesta dai club. Totti, che fallo, sfiorata la rissa, calcio a otto, animi accesi in campo per una sbracciata dell'ex capitano della Roma, il parapiglia. Poi le scuse, colpisce portiere, Daspo all'arbitro, è accaduto a macerata. La prima di tutto sport, ecco l'apertura con un primo piano di Maurizio Sarri. In un mese ti giochi la Juve, Sarri rassicurato da Agnelli, ma puntini puntini. Poi ancora di spalla, Inter torna Lautaro, Bivio, Napoli, semifinale di Coppa Italia. Parla il papà di Longo, mio figlio Moreno e il Toro. Moreno Longo, neolenatore del Torino dopo Mazzarri. E poi sotto la testata Ferrari 2020, rossa top model, presentata la SF 1000 a linee sinuose. È compatta ed è dimagrita rispetto all'auto dello scorso anno. Il nome per celebrare il Gran Premio numero 1000. Torniamo sui quotidiani abruzzesi per chiudere, andiamo sul centro, ecco qui serie B. Il Pescara corre ai ripari, oggi la firma di Bocinovo, l'attaccante bulgaro atteso in città. La società bianca-azzurra rompe gli indugi e chiude per il centravanti ex Juve per il 34enne contratto. Fino a giugno è opzione di rinnovo per il prossimo anno. Poi intervista al centrocampista Alessandro Bruno. Bruno, ora fidatevi di me, dispiace per i fischi. Il mediano in redazione vengo contestato perché sono il genero di Sebastiani. Prima non era così. E poi ancora aggiunge Bruno. Zauri non ha avuto molta fiducia in me, potevo tornargli utile in qualche partita. Playoff possibili, ma bisogna andare sempre al massimo. Le grottaglie come odd. Poi ieri c'è stato il recupero, un momento magico per lo Spezia che ha vinto in rimonta sulla Cremonese per 3-2. Dunque lo Spezia cali il tris e sale al secondo posto. Cremonese in crisi. Serie C. Teramo, pochi gol, attacco peggiore tra le big del girone. La squadra ha segnato meno di tutti tra le prime nove della classe. Tedino squalificato col Monopoli. C'è Marchetto. E poi ancora turno di campionato nel calcio a 5, infrasettimanale. Acqua e Sapone da record pari della Colormax. Dodicesima vittoria di fila per i Nerazzurri. Pescara impatta 5-5 in rimonta con Lavellino. Andiamo avanti. Serie D. Record di Esoneri. Salta una panchina ogni due gare. Da Epifani a Rachini fino a Mecco Monaco e Di Meo. Dieci cambi in 23 giornate. Lavezzano dietiene il record di Ribaltoni. Il Giulianova quello dell'avvicendamento più veloce con Pascucci. A Chieti le continue rivoluzioni non hanno portato benefici a vasto. L'era a meglia è durata solo 200 giorni. Cinque squadre su sei. Tra le abruzzesi hanno cambiato allenatore. L'unica che non l'ha fatto è stata la prima della classe. Il notaresco che dall'inizio della stagione è nelle mani di Roberto Vagnoni. Per il basket Chieti sul mercato per un pivot under si complica Di Pizzo. Brusca frenata per il centro del Latina. Marchesani non arriverà un altro giocatore senior. E ora andiamo sul messaggero Abruzzo con le due pagine di Sport. Sport Pescara il mese del tuo valore. Cinque partite in 30 giorni per le grottaglie. Il momento determinante di questa stagione. Il tecnico però perde anche Castanos. Soprattutto in attacco ha poche soluzioni. Balsano, Ciocev e Tuminello potrebbero essere disponibili fino alla sosta di metà marzo. E intanto proprio per risolvere il problema attacco. Bocinov firma col Delfino. Giornata da Telenovella. Basket di A2 in taglio basso. Brilla Rodriguez, lo squalo dei Caraibi in 37 minuti. 26 punti e 6 assist. Ci siamo guardati negli occhi. Abbiamo detto che dobbiamo vincere. E poi ancora torniamo al calcio di Serie C. Teramo Tedino non c'è contro il forte Monopoli. L'allenatore del Diavolo squalificato dal giudice sportivo per espressioni blasfeme. Match difficile con la squadra rivelazionale del campionato che dà il meglio in trasferta. Dopo il passo falso con la Viterbes si cerca il riscatto. Stasera al Bonolis finale di Coppa Italia di eccellenza. Poi ancora di spalla Giulianova del Grosso. Adesso non lascio più mission salvezza. Bartolini, voglio chiarire tutti i dubbi. Intanto questa notizia che riguarda il Chieti. Maranzino va al Chieti. L'ennesimo nuovo giocatore per la squadra nero-verde. Promozione l'Aquila. Il difensore Suli Mosciano. Team duro. E poi per il calcio a 5. Acqua e Sapone e Color Max continuano a volare. Vittoria per l'Acqua e Sapone. Pareggio e rimonta per la Color Max. Ci fermiamo qui con l'edizione di Mattino 6 che tornerà chiaramente domani mattina alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente. Le tre edizioni del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia. E grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.